Suggestiva e molto commovente la rievocazione storica della crocifissione di Gesù che si è svolta a piedi mondematese, nonostante l'inclemenza del tempo avesse messo tutto in discussione. Teatro principale dell'evento, il Palazzo Ducale, appena acquistato dal Comune e parte del centro storico della città. Tantissimi gli spettatori presenti che hanno assistito in religioso silenzio. Le scene che state vedendo nelle immagini girate dal nostro operatore, tutte rigorosamente in costume d'epoca hanno coinvolto varie associazioni della città, oltre che il Comune e numerosissime comparse sotto la tenda regia di Michele Schiano che del risultato finale è stato il primo a compiacersene. Sono veramente felice del successo di questa cosa, del successo del popolo e soprattutto di piedi mondematese in questo grido di Cristo che è stata la prima edizione, spero la prima di una lunga serie. L'evento è nato per valorizzare il centro storico, infatti ha inaugurato l'apertura di questo Palazzo Ducale meraviglioso, avete visto i suoi interni e sicuramente sarà proprio l'inizio di un cambiamento anche del palazzo. L'amministrazione ha voluto tanto che si partisse da quel palazzo per poi arrivare qui a San Giovanni. L'evento mi ha suscitato emozioni, sicuramente posso dirvi che il popolo ha reagito bene a questa cosa, ma soprattutto i personaggi che sono stati presi da tanti lavori diversi, hanno fatto gli attori, hanno aiutato con le scenografie e questo per me è il più grande successo. L'amministrazione è riuscita tramite anche me a mettere insieme una squadra immensa e sono felice. L'evento profondamente religioso aveva anche la finalità di promuovere la città e il centro storico, come ci ha poi detto la stessa vice sindaco di Piedimonte, Bernarda De Girolamo. Vi condurremo questa sera in un viaggio, in un percorso per ricordare i momenti più significativi della passione di Gesù e nello stesso tempo vogliamo far riscoprire i luoghi più belli di Piedimonte, i luoghi che appartenevano al nostro passato, alla nostra tradizione, ma che adesso vogliamo aprire partendo qui dal Palazzo Ducale fino ad arrivare poi alla Chiesa di San Giovanni per far vedere, visitare virtualmente chi avrà la possibilità di vedere questo video, i luoghi meravigliosi che Piedimonte Matese ha conservato nel tempo e che questa amministrazione intende aprire e rendere fruibile a tutti i visitatori, a tutti i turisti, perché Piedimonte Matese è una città ricca di arte, ricca di tradizioni e noi vogliamo approfittare di questa storia meravigliosa della città di Piedimonte per rendere partecipe il più possibile le persone che vengono a visitare la città. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it